La data fissata per il nuovo matrimonio, quello tra Pietro Lomonaco e il Catania, seconda e nozze, dopo che ha ripreso forza alla fiammella della passione tra il dirigente e il proprietario Nino Pulvirenti, perché come i rapporti di grande intensità, la fette e l'amicizia probabilmente non si sono mai spenti, solo affievoliti in attesa del gran giorno. Giovedì 9 giugno, prima il Consiglio d'amministrazione, poi la conferenza stampa in cui Pietro Lomonaco si presenterà alla stampa e quindi alla città, nuovamente con appuntati i galloni del comandante. Sembrerà un tuffo nel passato, quando il Catania era tutto da costruire e l'obiettivo ambizioso come adesso. Lomonaco stravolgerà tutta la società, il suo è un ruolo totalizzante, l'uomo che intende e sovraintende a tutti gli aspetti della vita di una società considerata azienda a 360 gradi. In più c'è Torre del Grifo, la sua creatura da far risplendere. Cosa farà del futuro sportivo del Catania? Sono in molti a chiederselo. Lomonaco è già al lavoro da giorni, sotto traccia. Studi analizza nomi e caratteristiche di allenatori, giocatori e sì, anche dirigenti, perché c'è da ridisegnare, forse come prima cosa, tutta la struttura organizzativa e dirigenziale. Piazza pulita o quasi. Marcello Pitino e Fabrizio Ferrigno hanno il contratto in scadenza a giugno. Pippo Bonanno, l'uomo a cui Pulvirenti ha chiesto di tenere a galla la barca nel momento di Burrasca, ha altri tre anni di contratto, ma con la delega di amministratore e delegato che passerà a Pietro Lomonaco, se resterà, si dovrà trovare un nuovo ruolo. Poi c'è la questione allenatore. Rigoli e Grassadonia, due nomi molto gettonati che Lomonaco conosce bene. Grassadonia, ad esempio, l'ha avuto al Messina vincendo l'ultimo campionato di seconda divisione, ma entrambi è difficile che arrivino. Quindi sarà la volta della squadra, che probabilmente sarà rivoltata con tanti nuovi arrivi. Ma prima, tra 48 ore, sarà il suo turno, quello di Pietro Lomonaco e del suo ritorno a Torre del Grifo.